benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi siamo qui con una riesumazione signori torna attiva sul canale la corazzata italiana tier 10 cristoforo colombo una nave che abbiamo già inserito nella playlist della regia marina dove tra l'altro inseriremo anche questo video ma oggi la vediamo due anni dopo il suo rilascio questo perché come sapete uscì ufficialmente nella primavera del 2021 è una nave comandanti che nel corso del tempo è cambiata in maniera diciamo poco significativa ma qualcosa hanno fatto hanno migliorato il brandaggio torri hanno migliorato leggermente la ricarica dei suoi cannoni e oggi la potiamo vedere qua su la mappa di trap con la modalità classica tripla cap domination in diagonale sarà una partita di pura sofferenza perché se notate c'è un sommergibile per lato non sarà il sommergibile tanto protagonista quanto piuttosto i nostri destroyer in particolare i due shimakaze questo video comandanti non solo ci permetterà di vedere anche dei consigli riguardo le skill perché il vecchio video era piuttosto vecchio il sistema di skill era ancora con la presenza di the die una skill fortissima che rendeva la christopher colombo un po più performante quando poteva sparare da invisibile skill ormai elevata ormai da più di due anni mentre anzi da circa due anni mentre oggi la vediamo con il setup skill attuale tra l'altro con il comandante a bordo sansonetti che è fortemente indicato per l'uso della christopher colombo e poi ve lo spiegherò nelle skill e nel setup comandante post partita come non ti dicevo che sarà una partita particolarmente difficile riportiamo questa nave sul canale essenzialmente per un motivo siamo stati sfidati da un amico di un clan italiano che ci ha ironicamente detto blizzard tu la christopher colombo non la sai giocare e ha ragione ha ragione perché io non gioco batteship quindi questa nave neanche vi ricordavo più l'ultima volta che l'ho giocata credo di aver trollato qualcuno in qualche ranked battle dell'ultima season ma oggettivamente io non ricordo l'ultima partita di random che ho fatto con questa nave anche perché non mi hai mai particolarmente entusiasmato siamo qua in assistenza allo shimakaze e allo zao sul cap dc sono andate le navi in acqua sono tutti tier 10 quindi è il matchmaking perfetto ideale per capire effettivamente quanto può rendere la nave tra l'altro abbiamo dedicato una serata intera a questa nave su twitch e i comandanti di questa nave diciamo che ci ha un po sorpreso nel risultato finale perché pensate che siamo riusciti a farla girare a 161 mila di danno medio e considerando appunto che il suo danno medio è solamente di circa 86 87 mila fare quasi il doppio disposto su tutte partite ci ha particolarmente sorpreso ci notate qua subito entriamo nel cuore della partita abbiamo un focus fire di cinque navi che ci tirano contro abbiamo la proesenda lontano abbiamo la conquer con i suoi maledettissimi incendi tra l'altro farà un partito non è quel tizio ma soprattutto abbiamo un interessante combo di destroyer del nemerso che saranno assoluti protagonisti di questa partita purtroppo per il nemico noi ci portiamo subito nella zona sud non spegniamo l'incendio perché cerchiamo di gestirlo un po con il nostro potente repair party mentre non siamo assolutamente assistiti praticamente da nessuno e guardate subito il posizionamento dello shimakaze alleato che vi farà capire un po quanto è veramente scarso quel tizio perché uno shimakaze che ha un vantaggio enorme di spotting sul cap dc dove il nemico non può schierare un radar non c'è una portiera in acqua ma lui niente lui sta dietro un'isola per motivi a noi assolutamente sconosciuti poi qua fa un'altra cazzata usa la cortina fumogena in questo modo leva completamente la visibilità alla cui fuiste allo zao e i due destroyer nemici sono liberi di conquistare la base senza nessun problema la christopher colongo dal punto di vista degli hp è rimasta invariata ai vecchi tempi 89.900 con la sua esigua cintura corazzata che fa un giro attorno alla nave e ha un fasciame di 375 mm pochino per un tier 10 a poi questa pruripopa classica rompigaccio 32 ha un ponte centrale da 50 anche esso rimasto invariato rispetto a quando la nave venne rilasciata nel maggio 2021 per quanto riguarda la resistenza sui torpe alto problema mai risolto solo il 31 per cento che dai ci può stare comunque considerando che è una nave giapponese però abbiamo visto navi decisamente migliori anche sopra il 40 non per forza del compartimento nipponico perché la wargaming non abbia atto questa cosa la christopher colombo che ha già pochi capi rispetto altre battleship è sempre stato un grandissimo mistero intanto complimenti allo shimakaze che prende quella tramvata lì e quasi ci rimane secco per quanto riguarda la velocità 31 nodi punto 1 di velocità massima con un raggio virata di 960 metri timone che risponde in massima efficienza in 18 secondi ora se guardate io in questo momento ero convinto assolutamente convinto che la nostra squadra potesse vincere la partita perché se notate controlliamo esattamente il cap di b controlliamo il cap di a e tra poco tutte le nostre navi su a potranno spingere a quel punto potremmo fare un'azione quasi a trincea spingendo sul cap di b a quel punto magari uccidendo e aiutandoci con il grosso della forza nemica che sta sul cap è a nordicico e conta sette navi avversarie in realtà questo push sarà molto molto lento ma soprattutto i nostri destroyer saranno assolutamente disarmanti uno shimakaze comunque è già stato abbattuto e l'altro è rimasto solamente con 4500 punti vita a questo punto non possiamo fra altro che avvicinarsi voglio stare molto attenti sapete perché il marsò può effettivamente lanciare i siluri da invisibile e i siluri fanno molto male essendo dei 550 mm di testata ma soprattutto c'è il delni il delni comandante è la nave che ha sostituito effettivamente il kabarovsk al tier 10 del ramo navale sovietico gambot ma a differenza del kabarovsk ha siluri estremamente corti anche se molto veloci il delni può tirare siluri fino a 10 chilometri di conseguenza li può tranquillamente tirare down spotted e sarebbe per noi un grosso grossissimo problema da gestire ovviamente lo shimakaze che non era un gran sveglio si vedeva chiaramente viene affondato e in questo momento siamo senza due destroyer su tre con il sommergibile che per imparare adesso è molto lontano rispetto a noi a questo punto avevamo una doppia scelta o metterci in posizione difensiva e attaccare proisland e shifland che avrebbero spinto oppure andare a nord e farlo uno contro uno con la conqueror che però sarebbe stato per noi oggettivamente un mezzo suicidio perché se guardate c'è un delni non identificato là sopra e vuoi che il delni non ci stia aspettando per tirare i siluri e aiutare la sua batteship sì comandanti il russo è ancora lì meglio non spingere meglio non giocare troppo con la fortuna a questo punto tramvata laterale con i suoi potenti canoni a che la maledetta conqueror per noi è un bel problema e andiamo ora in kiting facendoci inseguire dall'intera formazione batteship avversaria stiamo girando completamente cortina fumogena non abbiamo aperto il fuoco apposta perché come sapete se sparte dalla cortina italiana venite avvistati se invece riuscite a tenere il vostro tasto dei cannoni completamente spento e andare avanti tranquillamente potrete essere invisibili radar e sonar permettendo soprattutto radar e quindi recuperare un po' di punti vita e soprattutto far ruotare le vostre torri i cannoni della 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 nave sono appunto quattro torri quasi da 331 millimetri classiche già viste in passato 32.6 secondi di ricarica con il modulo a bordo altrimenti sarebbe molto di più e un bredeggio di 36 secondi a 7 a 180 gradi va detto che le due torri popiere girano a 360 gradi e quello è un comfort non indifferente in certe situazioni di manovra a questo punto la nostra cortina fumogena è andata in esaurimento i destroyer ora ci spottano per forza tra l'altro c'è un nevski nella zona centrale di mappa e noi cominciamo a tastare le sovrastrutture della preussen come sempre quando sparate sap cercate sempre in questo caso eravamo con le ap perché il colpo era in canna ma comunque con le sap cercate sempre di sparare sulle sovrastrutture sopra il ponte che sono la zona più vulnerabile ai vostri potenti cannoni con questi munizionamenti speciali per quanto riguarda i cannoni nel suo specifico hanno 234 metri di dispersione con 1.5 di sigma a 18.9 chilometri gittata che però si può aumentare se avete sansonetti a bordo e fate una kill perché se fate una kill con il bonus speciale di sansonetti migliorerete la gittata dell'8 per cento ma detto comandanti che il sigma di questa nave è di solo 1.5 ora io quando ho parlato con la wargaming in passato ho sempre cercato di insistere dicendo loro che l'unico modo vero per andare a sistemare tutti e dico tutti i problemi della cristoffera colombo era aumentare il sigma se avessero portato il sigma a 1.7 e posso assicurare che la nave sarebbe stata molto 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 più performante non la ricarica non il brandeggio non la dispersione non i punti vita semplicemente migliorare il sigma della nave ma la wargaming quando si parla di sap e di battleship italiane sembra non sentirci mai a questo punto damage control in azione perché avevamo un doppio incendio e continua l'azione di disimpegno mentre la curfus decide di attaccare una formazione con sei navi serragliate tra cui due battleship a secondarie non proprio la cosa migliore per quel signore lì con la curfus anche perché se guardate come per visto prima ve l'ho detto inizio partita il grosso delle forze alleate a sud sta salendo e sta ora cercando di attaccare il nevski a quel punto ci offrirà aiuto sulla fiancata che sarebbe la cosa migliore per noi che stiamo tenendo qua il grosso della forza nemica qui non c'è fretta di attaccare ma vai te a spiegarlo al genealoide a bordo della nave tedesca per quanto riguarda il munizionamento classico munizionamento italiano da battleship sap ap sap da 12.500 di danno massimo con 96 millimetri di penetrazione veramente notevole e 880 metri al secondo di balistica mentre colpo ap a 12.000 di danno e 850 metri al secondo di balistica è comunque una balistica veramente molto veloce più veloce addirittura di un colpo cruiser come quello di un harry francese e addirittura il danno delle sap è superiore a quello dei proiettili ap ecco perché molto spesso noi abusiamo di questo munizionamento per quanto riguarda poi il discorso legato alle secondarie c'è chi le potenzia chi non le no potenzia io personalmente preferisco potenziare gli aspetti difensivi della nave lasciando le secondarie al loro posto questo perché comandanti la maggior parte di queste batterie 12x2 sono da 90 millimetri e anche se mettete i fk e quant'altro avrete comunque una penetrazione piuttosto scarsa mentre le restanti batterie ottime tra l'altro molto precise sono le 6 torri tirate da 152 millimetri ma sono poche nel numero per poter essere potenziate seriamente dunque queste secondarie hanno una far chance del 5-7% e sparano ogni 4-8 secondi fino a 8 chilometri come previsto prima il fesso con la curfus si è fatto completamente tramvare dalla scilifen che non vedeva l'ora perché come sapete lei monta i siluri e nel brawling fight contro qualsiasi altra battleship è sempre sempre in vantaggio se potete non accorciate mai sulla nave tedesca di quella tipologia anche se avete una nave potente secondarie perché i siluri della scilifen sono talmente tanti che è impossibile evitarli tutti e offrono lei un vantaggio gigantesco nel combattimento ravvicinato per quanto riguarda poi il discorso legato alla lotta antisommergibile dato che prima una volta nel vecchio video non c'era l'attacco a air strank antisommergibile è standard almeno in questo la wargaming non ha dato handicap alla cristoffero colombo due attacchi singoli con due bombe in payload da 4900 fino a 11 chilometri con 30 secondi di ricarica nel frattempo se notate il nostro vantaggio di cap è piuttosto importante parliamo di quasi 300 punti ma il nemico si sta compattando e se venisse affondato il nostro sommergibile sarebbero guai sieri per la formazione su b che non sta efficacemente danneggiando la cremlino e la scilifen postela a difesa tra virgolette del cap di b da parte del nemico mentre la nostra azione di kaiti in comprovii se ne ce li fa in continua tra l'altro un mancato ringraziamento onesto allo zau e alla crelmino alleate che poi vedrete nel corso del video dove finiranno in classifica due giocatori imbarazzanti tra l'altro aiutati da uno in lega tifone che dovrebbe essere un buon giocatore ma forse lo è solo sulla carta per quanto riguarda l'antiaerea della crelmino della colomba rimasta invariata rispetto ai vecchi tempi batteria da 20 37 90 millimetri con 468 danno continuativo buono anzi direi molto buono per una battleship 1470 radiante è base e piuttosto scarso per essere una corazzata tier 10 a livello di flacca il problema principale di questa nave è sempre stato lo stesso comandanti la gittata 4,6 chilometri una gittata imbarazzante per una battleship dal punto di stanti aereo ok che le italiane non erano un granché a livello atti aereo ovvero ok che la roma che era la nostra nave battleship simbolo è stata affondata da una bomba anche se una bomba straordinaria per di prototipo però comandanti dargli un'antiaerea così pacchiana è veramente prendere quasi in giro questa grande nave da battaglia intanto ancora una volta sfruttando le SAP sulle sovrasudure abbiamo affondato facilmente la nave da battaglia tedesca e a questo punto cerchiamo di fare la festa all'ultima nave rimasta in push del cap dc considerando che i due destroyer hanno intelligentemente cambiato posizione senza seguire l'azione delle due battleship alleate guardate un po come colpendo la zona centrale sulle sovrastrutture puff il danno entra che è una sicurezza colpite sempre quella zona centrale sopra il ponte con le SAP vedrete che i vostri 12 14 15 anche 20 o 25 mila se sparate sul broadside li troverete sempre specialmente su navi da battaglia inglesi tedesche e francesi su queste proprio i danni entrano che è un piacere come potete notare una nave è entrata sul cave db e chiaramente probabilmente il marsò il nostro sommergibile ora è andato all'attacco delle battleship avversarie prima che lì vicino c'è una schliffen con il sonar oltre al fatto che c'è il delni con le bombe di profondità non proprio la mossa migliore del mondo da parte del nostro sommergibile tedesco a questo punto noi stiamo accorciando perché ci aspettiamo che arrivino dei siluri siamo ogni tanto spottati mi aspetto il tiro dei siluri però questi non arriveranno arriverà qualche cannonata chiaramente da parte di qualche corazzata là dietro a nord del cave db notate la posizione dei nostri alleati che hanno molti molti più hp di noi ma sono anche molto molto più pirla di noi e infatti sono là in fondo in una posizione che non serve assolutamente a nessuno a questo punto considerando che l'acralimino sta conquistando la base decidiamo ora di attaccarla ferocemente aprimo il foco sulle sovrastrutture e rallentiamo mettendoci in questa posizione per non essere massacrati dai suoi potenti 457 guardate un po adesso arriva chiaramente è un l'ennesimo bonus perché come avete visto prima sansonetti e a bordo abbiamo la durata maggiore del nostro consumabile questo perché quando superate i 100 colpi sansonetti attiva uno dei suoi tre bonus straordinari aumenta effettivamente la durata dei consumabili tra l'altro 100 colpi con la colombo è veramente tanta roba pochissime batteci possono pensare di arrivare a così tanti colpi durante una partita di random tra l'altro in circa 15 minuti va detto che lei ha talmente tanti cannoni che anche se ha un gap di ricarica particolarmente lungo che comunque con il modo lo abbiamo cercato di gestire la cosa si può comunque sopportare il delgni è riuscito in qualche modo a conquistare il cap db e ora sta cingendo da sedio il nostro sommergibile con nessuna punto di uscita qua pensavamo di riuscire a fargli più male alla colla ancora ma guardate è bastato semplicemente leggermente angolarsi e i nostri 380 non trovano niente questo perché questi cannoni hanno una penetrazione pazzesca quando possono sparare su target full broadside o incrociatori ma quando tirano anche su una corazzata leggerina come la conqueror che ha anche una cittadella particolarmente alta ma questa si angola leggermente perdiamo tantissimo indice di penetrazione e tanto vale sparare con le sovrastrutture guardate ora adesso salva di sap solo con i cannoni anteriori 10.000 che è lo stesso danno che abbiamo fatto con il doppio delle salve tirando i dapi sulla fiancata ecco perché è così importante montare la skill di sansonetti che permette lo switch veloce dei colpi da ap e sap o il contrario che tra l'altro permette lo switch in pochissimi secondi dopo il potenzialmente che c'è stato recentemente di quella skill di abilità e questa è una cosa importantissima perché saper cambiare i proiettili sulla colombo è uno dei punti focali per riuscire a farla performare davvero guarda adesso noi siamo praticamente chiusi e mi aspettavo un po più di aiuto da parte dei nostri alleati specie del goliath e dello zao questo perché se notate a nord il nemico ha la conqueror ma soprattutto ha un destroyer che sta lì poco più avanti potrebbe torparci a sud c'è il secondo destroyer oltre al fatto che c'è la schilfen in mezzo al cap se noi attaccassimo la zona centrale verremo completamente sopraffatti perché perché la schilfen ha i siluri e ne basterebbero anche solo due per mandarci capo considerando il danno elevato che possono fare e la scarsa resistenza ai siluri che abbiamo noi quindi non posso andare a nord anche perché se andassi a nord guardate un po la schilfen è lì pronta per colpirci broadside e noi siamo cittadellabili di brutto ma non possiamo neanche andare a sud siamo letteralmente chiusi in una zona assolutamente nevralgica e non possiamo uscirne l'unica nostra salvezza per allungare la partita è annientare la conqueror e poi cercare un rush disperato sulla schilfen che però è ancora lì ferma e non ci lascia possibilità di uscita certo col seno di poi era meglio muoversi prima a sud e poi attaccare la schilfen però comandanti è sempre facile ragionare con diciamo i fatti ormai già accaduti qui stavamo ancora aspettando la posizionamento dei due stroiere ma sto torna indietro dopo aver preso il cap di A e a questo punto noi siamo in mutande guardate un po a due minuti della fine dopo aver dominato la partita arriva il sorpasso della squadra nemica e no comandanti non è uno scherzo nonostante ci siamo presi ben quattro complimenti e un report la partita la stiamo lasciando andare via guardate un po cremlino totalmente nel pallone poi scopriremo che sarà una cremlino che sparava con i proiettili incendiari abbiamo tra l'altro due incrociatori full vita ma niente nessuno che spara sui target noi siamo gli unici che trovano costantemente il danno sulle navi avversarie arrivando ormai ridosso dei 240.000 tra l'altro se guardate abbiamo tancato quasi 3 milioni di danno potenziale è notevole considerando che è una nave da battaglia con neanche 90.000 punti vita siamo ancora spottati chiaramente un video destroyer si sta allargando per trovarci con i siluri io aspettavo che la conqueror in qualche modo riuscisse a farsi spottare per poi essere cancellata ma non è così stupido tra l'altro la conqueror se non sbaglio sarà il giocatore in testa alla squadra avversaria tra l'altro guardate ha utilizzato anche il suo tracks classico repair party quindi vai te a prenderla intelligentemente si sta portando dietro l'isola nord il cap dc in questo modo nel goliath nello zao potranno tranquillamente attaccarla a questo punto l'ultima cosa che possiamo fare è cercare di attaccare la scilifene però comandanti la scilifene resta lì nel capo e non si muove evitiamo facilmente i siluri del marsò speravo che uscisse qui a destra per cercare di cancellarlo con una salva sap ma niente da fare siamo completamente nel pallone la partita c'è assolutamente scivolata via tra l'altro avrei potuto anche fare qualcosa di più alla fine magari per cercare anche le 300k di danno però eravamo chiusi i 3-2 destroyer la conqueror ci incendiava la scilifene ci prendeva al fianco e non ho visto nessuna via di uscita purtroppo questo è lo screen del nostro match quasi 240.000 danni 135 colpi a segno sono tantissimi 2 kill la medaglia di resistenza agli incendi la medaglia driven di resistenza agli hp senza affondamento e ovviamente high caliber nave che ha fatto di gran lunga più danno in questa partita peccato aver mancato il confederate che avrebbe dato tra l'altro il bonus di vantaggio a Sansonetti con la ricarica è una cosa che probabilmente ci mancavano una o due salve e l'avremmo certamente fatto siamo arrivati ampiamente ai primi seguiti dalla Schilfen alleata buona anche la partita dello Sherman il resto totalmente insufficiente tra l'altro un grande mistero il giocatore dello Zao dei Kings che poteva tranquillamente pushare brutalmente la Concord non l'ha mai fatto la Cremlino è classico paccone ma i veri e propri esecutori di questa sconfitta li potete vedere sul fondo della classifica sto ovviamente parlando dei due Shimakaze che non hanno fatto assolutamente niente per quanto riguarda i moduli e i skill a bordo della grande nave da battaglia italiana sono le seguenti abbiamo deciso di mettere appunto come prima skill lo switch dei colpi migliorato perché con Sansonetti stellina verde quella skill è improvata e arriva al 60% dei bonus di tempistica di switch questo permette ai colpi di cambiare in pochissimi secondi ed è un vantaggio enorme perché come ho detto prima saper riuscire a switchare bene i proietti a PSAP è il trucco, è il segreto per far performare veramente bene questa nave poi il classico setup full sopravvivenza con tutte le skill di sopravvivenza migliorate e oltre al brandeggio che comunque con la skill effettivamente di brandeggio a 360 gradi che c'è con le abilità delle torrette posteriori è un po' secondaria però va detto che avendo 14 km di consenma in base alla nave secondo me non aveva senso andare a potenziare magari la velocità migliorata perché invisibili non ci andate quasi mai tranne quando state nella cortina fumogena ma poi analizzato per quanto riguarda il discorso legato a Sansonetti perché Sansonetti ha quelle tre abilità pazzesche che vi ho scritto in basso ed è il motivo per cui andrebbe messo qua sopra ovviamente io lo preferisco sempre sul Venezia ma se non avete il Venezia Sansonetti sul Cristoforo Colombo ci sta come il pane col burro la prima skill è appunto quella del potenziamento del talento che permette un risparmio dei tempi di ricarica di cambio del proiettile che potete vedere che si prende essenzialmente semplicemente spandendo un punto skill il secondo talento importante è ad attivazione ed è quello che non avete visto ovvero quello del Confederate sparando SAP così tanto sulle sovrastrutture si fa danno su tante navi diverse la medaglia Confederate arriva spesso ne abbiamo fatte ad esempio due nell'altra sera su Twitch 31 gennaio quando abbiamo giocato questa nave per le sette partite col 161k di danno medio quindi quella skill permette al 15% di attivazione di ricarica migliorata dei cannoni che è fondamentale perché abbassano di brutto la ricarica generale e poi c'è la skill che avete visto prima quella che basta fare anche solo una kill e aumenta dell'8% la gittata dei vostri cannoni principali che andando in combo un po' con il vostro aeroscout permette alla nave di sparare oltre i 20 km a quella distanza devo dire che contro i target grossi i SAP fanno comunque male c'è una clip su Twitch di 30.000 e passa sulle sovrastrutture di una Curfus ma dipende sempre cosa colpite c'è poi infatti la terza skill di attivazione che infatti non ho messo ma l'avete vista di attivazione durante il video ed è quella che quando effettuate 100 colpi a segno potete anche migliorare effettivamente la durata dei consumabili però quella è una skill secondaria perché sulle battleship anche sulla Colombo 100 colpi si possono fare ma comunque non sempre quindi diciamo che delle 3 ad attivazione è sicuramente la skill meno importante comandanti ci stava tutto questo revamp della Colombo perché comunque la nave è cambiata nel corso del tempo sono cambiate le skill questa effettivamente è la Colombo 2.0 del 2023 secondo me è una nave che si può tranquillamente ricatalogare faremo altri testi in futuro per vedere effettivamente cosa ne pensiamo magari ci farò qualche post anche sul mio gruppo Discord e su Facebook perché capire un po' se effettivamente la nave è più performante rispetto al passato ma di base mi sento di poter dire che è esattamente così io vi ricordo che siamo orlando durante la settimana su Twitch dall'unedì al venerdì dopo le 20 vi ricordo anche che c'è la possibilità di abbonarsi al nostro canale e supportare concretamente il nostro canale Twitch e il nostro canale di YouTube quindi miglioramenti hardware e se avete Amazon Prime l'abbonamento non vi costa assolutamente niente altrimenti costa 4 euro quindi roba veramente da poco ma se avete Amazon Prime collegandolo a Twitch ottenete Prime Gaming e vi potete abbonare ogni 30 giorni senza pagare assolutamente niente e darete un aiuto a me e a Mr. Grey signori se avete delle domande sulla Colombo rimango a disposizione sotto i commenti nel video su YouTube per il resto ci sentiamo alla prossima probabilmente domenica con un nuovo video ancora a bordo della Colombo è tutto comandanti buona caccia grazie a tutti